simpson 4.31.5 come potete vedere funziona perfettamente lo store è tutto gratis per prendere le sciambelle dovete andare a omel golden taser cliccate e trovate le sciambelle se le appigiate come potete vedere aumentano le sciambelle ricordo che questo video è solo a scopo illustrativo non assumo nessuna responsabilità di danni o uso proprio del materiale se vi piace il video iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace perfettamente funzionante e con questo è tutto sotto il video in descrizione lascerò il link per i download alla prossima